Musica Ragazzi e ragazze di giovane età che si appartano all'ultimo piano per fare uso di stupefacenti, un fenomeno che si sta crescendo e che si ripete a tutte le ore del giorno. Così recita un cartello che è apparso in un condominio di Palazzo d'Oro in via 25 Aprile ad Arezzo. Il cartello avvisa della presenza costante di gruppi di ragazzini con cappuccio in testa e zaino in spalla che si nascondono all'interno della palazzina per consumare droga. Ma le siringhe, segno evidente del passaggio di alcuni tossicodipendenti, sono state abbandonate anche nei giardinetti dei palazzi, alcuna addirittura conficcata all'interno di piante. Una volta si viveva molto meglio, un po' di degrado ultimamente c'è, soprattutto nella zona di Saione del Pionta che è qua davanti. Io penso che però nei posti per riuscire a farli vivere bisogna portarci le persone, non svuotarli. Perché dove ci sono persone, dove ci sono attività, dove c'è vita, c'è anche meno criminalità. Quindi non è che togliendo si risolve, anzi bisogna aggiungere. Alcuni giorni fa, sempre nella stessa zona, avevamo documentato la presenza di siringhe all'interno di una fioriera. Un residente addirittura ci aveva parlato di dosi di stupefacente nascoste all'interno del terriccio delle fioriere. La situazione è davanti da diversi mesi, li troviamo anche nei garage, mentre li buttano e passano nelle grate. Questo abbiamo trovato una settimana fa, più o meno. E tempo fa abbiamo trovato anche un ragazzo che scavava, evidentemente cercando una dose. Ecco, potrebbe esserci anche un giro di spaccio qui in questa zona? Sicuramente. Il fatto che li nascondano qua potrebbe essere anche per quello.